Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna, diventa Cavaliere della Repubblica e tra i premiati del Capo dello Stato per particolari meriti civili. Lo ha intervistato Massimiliano Reis. Felicità sicuramente, orgoglio per Domus de Luna più che per me personalmente, perché poi alla fine lo ritengo un premio a tutte le persone che lavorano in Domus de Luna, a tutti i ragazzi, a tutte le famiglie di Domus de Luna. Il prossimo 24 marzo Ugo Bressanello, nato a Roma Massardo d'adozione, presidente della fondazione Domus de Luna, con un passato di dirigente d'azienda, al Quirinale riceverà dal Capo dello Stato l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. Con lui saranno premiate altre 29 persone, esempi civili, secondo Sergio Mattarella. Chiudevano gli istituti, gli orfanatrofi, quindi abbiamo pensato di accogliere questi bambini che uscivano dagli istituti, facendo delle forme di accoglienza e di cura più possibile efficienti che funzionassero. Poi c'è l'Exme a Pirri. Dove in questo momento gestiamo anche molta attività di assistenza alle famiglie che sono in difficoltà con la spesa. La Locanda dei Buoni e Cattivi e gli altri progetti all'orizzonte. Quarto Santerena, con l'amministrazione della città, abbiamo aperto questo negozio dove c'è scambio di vestiti tra famiglie che li mettono a disposizione e famiglie che ne hanno bisogno. Insieme a questo non negozio stiamo cercando di aprire anche una fattoria sociale, questa invece avuta. Insomma, ce ne inventiamo sempre una nuova.